Ho avviato quella registrazione per la prima volta quest'anno non troveremo if di merda ma troveremo tots di merda il che cambia e qui la situazione cambia perché almeno sono giocatori di merda ma con un rating umano Allora full champions siamo ritornati elite 2 ragazzi è quell'elite 2 semplice con goduria poi questa settimana quindi abbiamo un 100k e un pacco con 3 tots della community garantiti dentro Vai vai col primo Brant Courtois Godin uh bello Brant Courtois mmm vai prendo Brant si secondo pick Cazzo mi ha dato Mitrovic Sergio la bruschetta Mitrovic vabbè pure lui non lo userò ma vabbè senti qua se buttamo su Sergio la bruschetta perché Demetrovic me frega un cazzo Ultimo pick Ozza Si godo come un riccio Simone godo come un riccio si e dai porca troia cazzo ai tots dovevamo arrivare Ci abbiamo 100k e praticamente 4 tots io una ozza voglio una ozza 100k vai ieri in 200k ragazzi in due pacchi da 100k abbiamo fatto un milione e mezzo Non è questo il giorno non è oggi Giocatore team of the season so far della community vediamo quali città Gulaxi Vabbè intanto ne ho trovati pochi dei casemiro c'ho solo casemiro c'ho vabbè next dai non mi da un portiere brutto si No fortuna installazione completata mi porta a zella mi porta a zella Tiago è bruschetta tiago che cazzo era Sergio la bruschetta tiago era cm ok Sergio la bruschetta 93 rated Magari sotto un bel gomez appoggiato eccolo Ma che è sto pacco cdc garantiti Vabbè abbiamo alzato 200k da sto pacco Dexino Buonasera Buonasera signor Dexino Quanto hai fatto Auele? 23 Ah vediamo un po' che possiamo trovare Dai oh eh A ozza però c'ha da uscire con me è l'unica l'unica cosa deve uscire a ozza con me Vabbè Bruschetta Vuoi bruschetta? Secondo dai Dexino No ma una merda fra una merda Casemiro Tutti Oh Eh piglia Piglia chi è che esce meno E poi fa tripla con l'altro Daccia ozza Fai l'uomo serio Ultimo Casemiro Puliti puliti va bene va bene Casemiro Vabbè guarda che rating Questo vedi se mettessero delle sfide effettivamente con un senso Tipo ho visto che hanno messo l'icon media Che cazzo c'è tempo fa? Che faccio ti apro solo il 100k o te lo volevi Ti apro solo il 100k e il 3 e il coso Allora apriamo il terzo Dexì Il terzo Quando c'ho quando c'ho queste scelte davanti Al massimo t'ho levato la merda per quello che sarà per i Toz della BPL E t'ho levato un po' di merda t'ho levato Dexì Toz della community Mannaggia la buona e senza mutande Che c'è da? Spagna Cdc È sempre Sergio Bruschetto L'importante è che non esce Grimaldo da Spagna perché stamattina è esultato su un Grimaldo che Eccolo È come il tuo Eh sì Ho guadagnato 10.000 credit in più perché Casemiro costa 10.000 credit in più di Courtois Però in realtà è uguale a me il pacco E insomma Grazie bello un bacione Ciao Dexino Scloponis Carissimo Ah vediamo un po' Elite One Uno dei top comment del video mio della scorsa Dei scorsi rewards della WL Fa poche cose sono sicure nella vita La morte E l'Elite One dello sclopone Quando l'ho letto sono morto E sulla prima non sono tanto sicuro Esatto Vediamo se se può Elite One Ok tu sei il primo Elite One della giornata Abbiamo fatto Elite 2 io Dexino Elite 3 Elite One sclopone Vediamo Vabbè è giusto Chi vuoi? Però Se vuoi si prendere i Codin a sto punto Dici che cazzo te frega di Fernandinho Giustamente Sì L'ho beccato su Xbox Ma devo sperare Fernandinho Quindi Vabbè allora facciamo Codin per il rating Per una sfida e via Secondo pick Ok Questo è ufficialmente quello più brutto Che abbia mai visto Prendiamo Lazio all'otto Dai l'ultimo mezzo umano L'ultimo mezzo umano Eccolo Eccolo Oh Perfetto Mucchielone Eh sì per forza Hai visto? Vabbè l'abbiamo chiamato Facciamo soltanto i tozzini Così almeno ti tieni quelli da Premier Vediamo un po' Spagna Cdc Bruschetti Vabbè Vabbè Brant comunque Guarda Costa Sì 90 rated Costa 160 mila Vabbè Dembele 63 mila Un po' di pepe pure Un po' di pepe Effettivamente l'abbiamo messo Prossimo Vai Inghilterra Eh no Vabbè Tiago Ok 93 92 93 Meglio della Bruschetta Perché te costa 20k di più Se c'è un altro 93 C'è Gomez Sclo scappo Dato che t'ho visto pure trovarne uno Oh Wewe Perfetto Vabbè ragazzi 400 e passa Solo sto pacchettino Più quell'altro Sui 700 mila credit di Sclo I primi rewards Con Hit of the Season Hanno droppato Dai È andato benissimo È andato molto bene Sono soddisfatto del mio operato Ciao Scloppone Grazie mille È bello Barbone Ciao Ciao bellissimo Vediamo un po' Dai Sclo Dai Barbone Scloppone Mamma mia Sto rincoglione Io non devo più svegliarmi Un'ora prima Da stream Che poi entro So quadrato Ah Elite One Del Barbone Vai col primo pick Vabbè E insomma E che prendiamo qua Courtois Courtois Prendiamo Sì no Prendiamo Courtois Dai Secondo pick Brant Brant o Bentancur Brant Vai col Julian Ultimo pick Cariello Per Sergio Bruschetta O Godin Ma Godin Forse l'inca meglio Eh oh A rating C'è stiamo È bello È positivo Però L'unico che mezzo Si può provare Forse è lui Però in realtà Non so manco Se tu abbia voglia Di provarlo Ah vediamo di fatturare Questi soldini Per il Barbone Ormai abbiamo capito Esce la bandiera spagnola Sì se buttavo sempre Cdc o cc È bella Esattamente Perfetto Sergio Bruschetta Uno Però potenzialmente Sotto c'è sempre De tutto Ma in realtà Non c'è mai in cazzo Vediamo un po' Oh Ma questo è un pacco Della madonna E questi sono È mezzo milione Netto Una bomba Regà Vedi Vedi Ho pianto un attimo Ho detto che sotto Non c'è da mai niente Il gioco l'ha capito Tutti sti pacchi L'hanno fatto veramente vomitare Non c'è da mai nulla Cazzo Ci ha presa la lettera Ci ha preso Mi sa che Abbiamo pianto un po' Troppo Ma questo è il segno D'agro C'è sto pacco Questo sono 100k De pacco Questo che è brutto Come la fa Uno dei pacchi Più brutti Della storia Grazie Barbò Grazie a te Grazie bello mio Da Ciao Ciao bello mio Elite one Allora Victoria Sigrets Modelle Stai a dire Vediamo un po' Aozza Aozza per Dagnolf Lo usi titolare se lo trovo Simone Io Simone va Pio Simone Buono Secondo picchetto Cambiano un po' i colori Mio fratello si chiama Simone Cambia un po' il colore Però vabbè Vabbè sì Cioè In senso Poi dipende Ma lo butto in cosa Godin in Goretzka Una bruschettina Una bruschettina Per Goretzka Insomma Guarda non vale proprio Quei crediti Zà Non te lo provare mai Eeeh Vabbè piglia Felipe Piglia Felipe Che famono Prendiamo Dai ci sta Vabbè questi qui Top pick Però se ci pensi C'hai solo i super sub Cioè non c'è più un team C'hai solo i super sub E non vogliamo Felipe Anderson Noi Ci fa schifo E' sempre lui E' sempre Sergio La bruschetta E' sempre Sergio Insomma Eh questi qui sono 200k Neanche de pacco Sfoderò la potenza Se no con Spagna Dacci piglia Almeno sono 200k E sono buoni Esterno No Casemiro Che palle Zì Ma sono sti cdc Stanno usciti Da sto toz Che ci dai sotto Eh me sa Oh cazzo Mi sa che balzo Sì butta su Ti posso fare questo a qui Questi sono questi patch Grazie Grazie Un bacione Andiamo da Deo E poi abbiamo i top 100 Quelli di golosità Ciao bellissimo Uomo sexy Azza Allora Elite 3 Ci basta Simone Se esce Gomez Non so dove metterlo Non posso metterlo in squadra Guarda eh Guarda che è sempre qui eh Non abbiamo di questi problemi No non abbiamo questi problemi Chi vuoi? Godin? Godin Sì per l'opero Secondo Casemiro Meno male che abbiamo preso Godin 93 92 E mo ci da un altro bel 93 Dal nome di Sergio Bruschetta Dov'è? No Mamma mia che mi viene un po' da vomitare Vuoi prima il garantito? Sì che almeno è non scambiabile Vai Stanto mi darà il portiere Gulaxi vai Stanto Oh Mucchiele Bello Bello mucchielone Pensa che non posso mettere manco lui Eh questo qui faccio un pensiero Io lo provo stasettimana e ti aggiorno 100k Vai Sì Mamma mia I 100k oggi veramente Teneteveli stretti ragazzi Non aprite niente Non aprite È quel pacco lì Allora te lo apro col pisello Ci sono 3,88 Lucas Leiva Gulaxi E Simon Non voglio vedere che tanto La prenderò con filosofia Zato Lo giuro guarda Ma l'ho aperto con l'uccello Vabbè allora è fatta Allora è fatta Un altro mucchiele? No No Mucchiele erano 300 almeno Si se rideva Prendila con filosofia Godo Un po' godo Un po' godo Un po' godo Si con molta filosofia Un po' godo Dai Almeno so dai 330 L'abbiamo svoltata Sto filosofando Svoltatissima Svoltatissima Mucchielone è il tuo uomo eh Teo Ok ci siamo Tu vedrai un po' in ritardo Teo in realtà Allora sono picche tots Giustamente C'ha il pacco da 11 lui oh Quarto al mondo Mamma mi devo ritirare a fare i fazzoletti Pascio che ammersutore Quest'oggi me sa eh Porca putana Quarto al mondo 5 pic 5 di qua e 11 di là 5 qua e 11 di là Oh Una ozza Andre Ce penso io Primo pic Allora Courtois o Sergio Labruschetta Qui si va nel classico Chi prendiamo? Courtois Secondo pic Vabbè Tiago Vabbè 2.93 per ora su 5 Ci siamo Terzo pic Infatti Eccolo qua Sergio Labruschetta Gomez esiste nei rossi A quanto pare no No A quanto pare no Mamma mia che merda Neanche uno utilizzabile Ultimo pic E dai E si Ultimo Uno dei tre tolto No Picche Vediamo il lato positivo Sono 4.93 rated Il pacco da 11 tots Allora Qui 100% Esce Bruschetta Dobbiamo calcolare da questo Non si sa bene il motivo Uscirà la Bruschetta Però sotto ci potrà Cioè ci sarà Veramente Il panico Credo Con l'uccellone Brother Allora Minimo un 600 Ti fai per forza Ma power minimo Col febbratone Dai febbra Mannaglia la buona Andre Mannaglia la buona febbra C'ho quella C'ho quella paura Allora Spagna CDC Vediamo Spagna CDC Perfetto E fino a qua Ci stavamo Perché tanto alla fine Io penso che Deba uscire lui per forza Dai 93 Non si capisce bene il motivo E fino a qua ragazzi Ci stiamo Da ciao a Uzzate Prego A Uzzat O Anderson Allora Famo duca Allora Fernandinho So 220.000 Allora Tiago Tiago So 100k Bruschetta So 85 Courtois So 80 Godin So 85 E già solo loro Loro tre So più o meno È un milione È un milione Di pacco Che generalmente Ci può sta Però diciamo che Mucchiele dentro pure Avrebbe fatto comodo Magari no Al posto di Gulax Poteva esserci pure Leno per Simon Però dice il barbone Giustamente Infatti bisogna vedere Il lato positivo Allora Grazie mille Andre E io direi che posso andare Dall'ultimo account Il primo al mondo Mamma mia Guarda con che squadra Cioè come fai con sta squadra Zio mi chiedo Ma come Cioè con Simon Ma con Massimino Primo al mondo E questa è la terza volta Che quest'anno riesco ad aprire Un ragazzone italiano Primo al mondo Cioè dopo di lui Il nulla Vorrei trovare Un pick utilizzabile Primo pick Parto dal quarto Così Mamma mia Che schifo Qua prendo che Penso che Prendiamo Mitrovic No Andiamo al primo Tiago Ah si ma Gomez È introvabile Terzo picchetto Fernandinho Tiago Vabbè immagino Fernandinho Quarto Casemiro Dembele Godin Vuole Casemiro Invece Vuole Casemiro Dai L'ultimo pick Umano per favore Ah È riuscito Casemiro Però è riuscito pure Godin Però c'è pure Mateus Pereira Che non so Infatti lo vuole Vuole Mateus Pereira 91 o più di pick Allora andiamo ad aprire questo Sergio Bruschetta Garantito Vai Lo sto apri Dai faccio i fini col bot Spagna Cdc Lui Non si sa perché A quanto pare C'ha davvero la cosa Che esce sopra tutti I 93 Il problema rimane sempre Chi c'è sotto Non faccio reaction No reaction Vabbè C'è Simone Non l'avevo visto Sì sì C'è Simoncino E Fernandinho Che so Che ti portano Più o meno Al mezzo milione Solo loro due Frate Cioè Questo qui Eppure questo qui È un altro 800 900 mila crediti De pacco Più o meno Alla fine Ho sempre Quelle 900 800 mila crediti De pacco Jovi Io ti ringrazio Il contenuto è stato fatto